Salve, buonasera a tutti, ben ritrovati amici, ben ritrovati sulle nostre amate frequenze di Bridges of Light, il nostro meraviglioso canale mediatico dove grazie al maestro Gaetano Vivorechi abbiamo l'opportunità di poter condividere insieme tante bellissime dirette con argomenti interessanti che ci aiutano nel nostro viaggio di consapevolezza e di crescita spirituale. Benvenuti a tutti, vi aspetto che qualcuno si possa collegare, vedo già la nostra Patrizia Meli che saluto e ringrazio tantissimo per la sua presenza qui, Antonella Virzi grazie, Meri Capuano, ciao tesoro, ciao. Mi fa molto piacere perché il nostro appuntamento bimestrale è sempre molto atteso anche da me perché con grande cuore ogni volta vi incontro proprio per il piacere di stare insieme. Vedo anche Giacomo Sinagra che saluto con affetto, grazie onorata della tua presenza Giacomo, ti seguo sempre se straordinario. Grazie ad Erika De, Salvatore Curcio che si è giunto adesso, grazie a tutti. Io mi presento Giulia Covello, ciao, sono molto felice che tu sia qui insieme a noi questa sera. Io mi presento, sono Katia Santonocito conosciuta su Bridges of Light con il nome di Katia San e in questo spazio mi occupo della canalizzazione dei messaggi dalla costellazione delle Pleiadi. Questa meravigliosa costellazione, l'ammasso stellare aperto, distante non tantissimo da noi, sapete che le distanze cosmiche in realtà sono incommensurabili, però se calcoliamo la distanza tra la Terra e le Pleiadi ci accorgiamo che vibrano a circa 440 anni luce, non sono moltissimi, per cui tutta l'energia meravigliosa creatrice di sostegno, supporto e amorevole di questa fantastica costellazione ci arriva ben canalizzata sul nostro pianeta Gaia per portarci sempre maggiore energia di consapevolezza, vitalità ed entusiasmo proprio nell'affrontare anche la nostra quotidianità, la vita di tutti i giorni. Saluto ancora Mara Darodda, Patrizia Valenti, grazie tantissime per essere qui stasera, Rosanna Catanzaro, bentrovati, tra l'altro oggi sappiamo è anche un giorno davvero speciale perché è il giorno del solstizio d'inverno, anche se in realtà sappiamo che sarà domani, però questo è già un anticipo proprio del solstizio d'inverno, il giorno di maggiore buio dell'anno che però rappresenta anche la luminosità interiore realtà e dopo magari lo potremo vedere insieme che cosa indica e cosa significa. Se volete naturalmente approfondire durante questa diretta, avete magari delle curiosità sui Pleiadiani che sono i magnifici abitanti della costellazione delle Pleiadi, io rimango sempre assolutamente a vostra disposizione perché da loro canalizzo dei messaggi energetici che io ritengo davvero straordinari, i quali messaggi mi aiutano e mi sostengono proprio anche a produrre una vita energetica migliore, a darmi forza nel quotidiano e anche ad affrontare magari qualche problematica perché un aiuto dall'alto sicuramente è un abbraccio di luce che mi arriva e ci arriva proprio come forza per andare avanti perché ne abbiamo sempre tutti tantissimo bisogno. Ciao Luisa, Bresci molto felice che tu sia qui con noi, sono molto molto felice di averti. Patrizia mi dice le tue canalizzazioni sono meravigliose, io ti ringrazio Patrizia, so che anche tu mi segui tanto. Io ho iniziato a canalizzare i messaggi dalle Pleiadi qualche anno fa attraverso la scrittura, mi succede in una maniera molto naturale, l'ho spiegato anche in altre dirette, dopo aver affrontato un mio percorso sicuramente non particolarmente sereno di vita perché molte volte a delle consapevolezze nuove arriviamo attraverso dei travagli. Per questo dicevo che anche oggi è un giorno importante per poter parlare di tutto questo perché in realtà quando noi affrontiamo un periodo buio magari al momento non riusciamo a vedere la luminosità che poi sorge sempre alla fine del famoso tunnel che abbiamo davanti ma quella luminosità è fuori aerea di tante esperienze nuove che ci aprono a delle avventure straordinarie che altrimenti magari per altre vie non avremmo potuto raggiungere. Quindi sono arrivata alle canalizzazioni anche e soprattutto, lo dico sempre, tramite il mio percorso di Reiki, sono una studentessa di Gaetano Vivo al terzo anno, ormai conclusivo, sono prossima al Master Reiki e quindi proprio lì attraverso anche lo studio dei nostri canali energetici, i Chakra, ho imparato a comprendere proprio come si possa muovere energeticamente l'essere umano e tramite l'apertura in particolar modo del sesto Chakra, il nostro terzo occhio, quello che noi abbiamo in sostanza qui, il nostro cervello astrale, ho imparato a collegarmi con il mondo multidimensionale di frequenze dette extraterrestri proprio poiché abitano al di fuori del nostro sistema terrestre e ad apprendere da loro degli insegnamenti di vita che poi trasferisco nelle canalizzazioni. Laura mi dice buonasera dolcissima grazie. Katia ci sarà un messaggio per me chissà, ti ascolto con interesse. I messaggi che io canalizzo hanno magari una valenza un po' più generale ma chissà che non arrivi qualcosa Laura, siamo sempre in ascolto. Patrizia mi chiede ci puoi dire la tua prima esperienza con i pleiadiani. Certo Patrizia questa prima esperienza risale a qualche annetto fa, io ho avuto l'opportunità di poter vedere, visionare proprio le frequenze energetiche pleiadiane, proprio con la loro struttura fisica, perché pleiadiani quando si manifestano, si manifestano nel loro corpo fisico che non è poi così differente rispetto al nostro. È capitato di notte mentre dormivo, quindi è successo in astrale, però con la piena consapevolezza che qualcosa di straordinario stava accadendo. Ho visto queste due straordinarie figure, una bionda di aspetto nordico molto alta, l'altra bruna sempre alta, però diverse, proprio una come appunto un aspetto nordico, l'altra di aspetto medio orientale, con delle caratteristiche però fisiche simili alle nostre. La cosa diversa è stata però il rivestimento proprio epidermico dei pleiadiani, una cosa che mi ha colpito perché loro pur avendo una fisicità riconoscibile, hanno come struttura, almeno i pleiadiani che quella sera, quella notte mi sono apparsi, come una struttura energetica costituita da una rete da filamenti. Quindi ho osservato ovviamente questa situazione e ho chiesto ma che cosa siete, chi siete, che cosa posso fare per voi e cosa voi magari volete da me. Poi ho compreso che cosa volessero indicarmi e mi hanno fatto vedere dei rotoli che avevano nelle loro mani e me li hanno dati. Questi rotoli erano in realtà dei messaggi in un tempo davvero non sospetto perché io ancora qualche anno fa non sapevo che avrei poi più avanti portato il loro messaggio e l'avrei diffuso e loro appunto volevano dirmi noi ti consegniamo qualcosa che tu un giorno dirai a tante altre persone per aiutarle nella stessa crescita di consapevolezza spirituale che anche tu ad oggi stai vivendo e stai percorrendo se facendo. Quindi il mio primo contatto con loro è stato quello, non ho avuto paura perché molte volte magari mi viene chiesto, è chiaro noi ci ritroviamo possibilmente di fronte delle realtà molto diverse della nostra, però quando noi conserviamo dentro anche una curiosità per tutto ciò che è il mondo spirituale, quando il nostro canale energetico è puro, non è contaminato magari da esperienze negative, quando abbiamo fatto dei percorsi anche spirituali importanti allora sicuramente c'è l'apertura di tutti i nostri canali e anche le nostre paure, le nostre ansie, i nostri dubbi di fatto poi vanno via. Quindi se noi vogliamo percepire anche diciamo le presenze, le presenze energetiche di abitanti di altri pianeti dobbiamo comunque innanzitutto poterci mettere in ascolto della loro vibrazione e della loro frequenza energetica. Luisa Bresci mi dice fantastico incontro vero, verissimo, scusatemi. Un incontro veramente straordinario, io non so se magari mentre vi racconto le mie esperienze ho perso qualche messaggio, magari non sto salutando tutte le persone che sono intervenute in questo momento in diretta e mi scuso con voi, poi avrò un modo naturalmente di rileggerli i vostri messaggi e sappiate che siete tutti nel mio cuore, vi abbraccio davvero con tutto l'affetto e l'amore che io posso. E quindi questo è stato un primo incontro, ho avuto poi modo di poter interiorizzare questa esperienza perché è stata molto particolare nella mia vita, straordinaria. Io in realtà da piccolina, come anche qualcuno di voi magari ogni tanto mi racconta perché abbiamo sempre delle corrispondenze tra di noi e delle cose magari sono sempre esistite solo che poi ne prendiamo coscienza più avanti con l'età, mi ricordo appunto che facevo sempre come dei viaggi astrali, cioè andavo via dal mio corpo, avevo questa capacità, ero piccolina però lo ricordo molto molto bene e vivevo come un gioco, questa possibilità e capacità di poter uscire dal corpo per andare ad esplorare tutto quello che mi circondava. Iniziavo magari con la mia stanza quindi visualizzavo ogni dettaglio e poi uscivo fuori anche davvero in esterno nel palazzo da cui abitavo, in cui abitavo e andavo proprio a guardare tutto quello che era fuori la mia casa avendo sempre la possibilità e la coscienza di poter comunque rientrare nel mio corpo fisico perché molto probabilmente quando si è bambini si anche così tanto canali puri che si mantiene quella vibrazione, quella connessione con il proprio cuore perfetto per cui io riuscivo quasi come un gioco a trasformare l'esperienza di uscita e di rientrata nel corpo e quindi a godare di qualcosa di straordinario che poi nella vita adulta non mi era più successo fino appunto a qualche anno fa con l'incontro con i maestri pleiadiani che mi hanno consegnato appunto dei messaggi. Io perdonatemi cerco di scorrere e così magari recupero qualche domanda o qualche vostra corrispondenza. Vera mi dice ciao Vera tesoro ti abbraccio, sei tanto serena, sì è vero lo sono, secondo me sei anche tu una pleiadiana. Io Luisa sono una pleiadiana, questo poi l'ho capito perché ho fatto anche una canalizzazione diretta, ho proprio tutta una mia vita energetica primaria legata alla costellazione delle pleiadi, infatti quando mi è stato detto io mi sono riconosciuta davvero in tantissimi dettagli e la cosa straordinaria è che ho proprio un compagno, un compagno animico, un compagno di cuore che vive proprio nelle pleiadi e che da lì mi segue e che mi dà sempre la struttura energetica e la forza per poter anche andare avanti in questa nostra struttura geofisica del pianeta Gaia meraviglioso ma sicuramente molto più complesso. Dovevo venire qui per portare evidentemente la mia esperienza, il mio messaggio di luce, di luce ultradimensionale rispetto a quella che noi viviamo qui perché potessero essere anche le mie parole ma la mia stessa vita un incoraggiamento per chi come me comunque ha affrontato anche percorsi difficili però sempre con la speranza nel cuore di poterli superare perché possiamo davvero superare tutto in quanto siamo amati, amatissimi, credetemi ve lo dico con il cuore, da una forza superiore maggiore rispetto a noi che in questo momento visualizziamo appunto nella costellazione pleiadiana. Antonella mi chiede quindi anche noi crescendo spiritualmente possiamo sperare? Certo naturalmente Antonella tutti possiamo sperare di avere dei contatti simili, naturalmente non tutti desiderano poter avere questo accesso però per chi lo vuole con una buona dose anche di studio, di consapevolezza, di apertura, come dicevo dobbiamo un po' superare quelle che possono essere anche le nostre paure, i nostri dubbi legati molto alla nostra dimensione perché per noi esseri umani non è molto facile comprendere la potenzialità spirituale di poter guardare oltre quello che è il nostro corpo fisico materiale che in realtà può essere anche definita come un'astronave perché ci permette poi di viaggiare anche attraverso lo spazio tempo, di poter visitare più pianeti in questo momento ci troviamo in questo e di poter fare esperienze diverse che poi porteremo sempre in dimensioni superiori per accrescerci e per aiutare anche altre persone, altre entità a progredire e ad evolvere esattamente come stiamo facendo noi. Quindi Antonella con il desiderio nel cuore, con la richiesta chiedi e ti sarà dato, ricordatelo sempre, ognuno di noi può arrivare anche a canalizzare qualcosa di straordinario, qualcosa di vitale, qualcosa di forte, qualcosa anche di mistico che ci possa aiutare a progredire nel nostro quotidiano e a essere veicolo di amore per noi stessi in primis perché è la cosa più importante ma anche per gli altri, un dono che tutti possediamo ma che dobbiamo avere la consapevolezza di possedere e che dobbiamo poi portare avanti anche con degli studi e anche con dei momenti soprattutto di meditazione. Io proseguo con le vostre domande. Patrizia Crisalide Mantegazza che io saluto e ringrazio moltissimo per la presenza, è una meravigliosa poetessa che seguo sempre e verrà dopo di me con la sua diretta. Mi dice che ho una voce molto rassicurante, io ti ringrazio Patrizia sei davvero molto molto gentile. Edel Caris, tesoro mio bello, ti saluto meravigliosa, quanto mi ha insegnato Edel, ti voglio bene dal cuore lo sai. Nicoletta Aprile con noi, Nicoletta Aprile straordinaria, grazie. Vera di Rosa mi dice l'ho pensato sai certo, grazie Ambra, grazie a tutti. Ambra mi chiede se ho qualche messaggio per noi, certamente dopo lo leggeremo insieme in modo tale da poterlo anche commentare se volete. Sono sempre messaggi orientati al bene, orientati alla luce, orientati su una vibrazione energetica superiore rispetto a quella che viviamo nel consueto. Voi dovete sempre ricordarvi una cosa, la dimensione bassa che noi viviamo, la terza dimensione, quella legata alla materia naturalmente, ci vincola, ci condensa a volte in strutture piramidali non facili da superare perché sono come delle tenaglie energetiche che spesso avviluppano i nostri sensi, quindi producono anche vibrazioni che non sono sicuramente eccelse, come possono essere molte volte anche il rancore o l'invidia o il senso di colpa, tutte vibrazioni che ci fanno sempre andare verso il basso. È molto importante invece risalire, guardare verso la luce perché solo così appunto attraverso questa piramide riusciremo a raggiungere poi quella che è l'apice chiaramente del nostro sistema energetico cioè la corona, l'illuminazione, l'illuminazione che è vista nella frequenza della divinità ma anche intesa come illuminazione della mente connessa al cuore. Questo è molto importante, quando noi raggiungiamo questo stadio dentro noi stessi, lì apriamo tutte le porte che desideriamo aprire. Luisa mi chiede, quindi i pleiadiani non hanno malattie e non invecchiano? I pleiadiani tesoro hanno una vita molto più lunga rispetto alla nostra, noi arriveremo ad una vita molto più lunga perché sapete che anche la conoscenza della medicina sta facendo grandissimi progressi e tutto è sempre anche evoluto e guidato da loro ma i pleiadiani sono molto più avanti di noi, circa 20 milioni di anni addirittura e quindi conoscono una medicina diversa, hanno un sistema di cura diverso proprio a livello di energia, di guarigione, dei chakra e non hanno malattie e non invecchiano. Loro passano semplicemente poi da una dimensione all'altra quando dopo tantissimi anni molto più dei nostri hanno completato il loro ciclo di conoscenza evolutiva, è come se togliessero una pelle e poi ne andranno a mettere un'altra ritornando però i loro stessi con tutto il bagaglio esperienziale che appunto hanno acquisito nella vita che hanno vissuto. Adele, ciao tesoro, Rosanna portente, ti saluto e ti abbraccio sempre con tutto il cuore. Salvatore mi chiede sei stata assieme a loro nelle pleiadi? Questa Salvatore è anche una bellissima domanda che tu mi poni e io posso dirti che spesso vado insieme a loro nelle pleiadi ed ho avuto più occasioni di poterle visitare ed è un mondo davvero straordinario, sono delle costellazioni meravigliose che ruotano attorno ad Alcione, la loro stella centrale, sono un sistema di pianeti che hanno una loro stella centrale ma non soltanto una, sono davvero tantissime e hanno un'evoluzione e un'organizzazione sociale di struttura proprio ma anche come città proprio totalmente diversa rispetto a come noi possiamo concepire qui la vita sulla terra. Quindi ho avuto più occasioni di poter andare nelle pleiadi sicuramente sin da piccolina anche se poi ho ripreso questi ricordi più avanti tramite la canalizzazione quando mi è stato anche detto e l'esperienza che mi lega al mondo delle pleiadi è così affascinante e anche così penetrante all'interno del mio cuore che tutta la mia vita è davvero orientata verso di loro perché sono innamorata del loro mondo in realtà. Antonella mi chiede ti ho sentito tanto parlare di loro, mi incuriosisce sapere come si riproducono. Loro hanno un sistema di riproduzione chiaramente anche differente rispetto al nostro e tutto in loro come dicevo prima è un'energia proprio anche telepatica quindi loro si riproducono non attraverso degli organi sessuali, loro sono asessuali e hanno una riproduzione poi così proprio di rigenerazione, di rigenerazione dell'energia da cui poi nascono nuove entità spirituali o pleiadiane. Sonia Santaniello io ti saluto, ciao, tanta serenità in fondi, grazie. È un piacere ascoltarmi, è un piacere stare con tutti voi questa sera. So che è un argomento un po' più particolare quello che noi trattiamo che ci collega a delle energie celesti meravigliose, proprio alle energie dei maestri ascesi pleiadiani, però io credo che sia davvero il tempo qui sulla terra di poter prendere piena consapevolezza del fatto non soltanto di non essere soli nell'universo, sarebbe impossibile anche da un punto di vista statistico, ma proprio di essere amati, guidati, protetti da delle energie che fanno di tutto il loro possibile fin tanto che noi siamo pronti a recepire i loro messaggi per portarci nella loro stessa evoluzione. Lucia mi chiede, forse noi dobbiamo attraversare questa energia più bassa proprio per la natura del nostro mondo, fatto di terra, aria, acqua e fuoco. Quando li equilibriamo dentro di noi aggiungendo lo spirito allora iniziamo ad elevarci. Esattamente, infatti questa serata, Lucia ti ringrazio perché hai preso proprio l'argomento centrale, è proprio collegata alla spiritualità che comunque diventa materia, alla fusione dei due elementi e quando la materia prende consapevolezza della spiritualità in particolar modo si eleva, è solo lì che arriva quel momento simbiotico, magico, eccelso che ci permette di comprendere chi siamo e da dove veniamo. Io se volete vi leggo il nostro messaggio di questa sera e poi magari avremo modo di poterlo commentare insieme. Il messaggio dice così, mi emoziono sempre perché lo sento molto forte proprio a livello interiore e fratelli amati, noi siamo proprio i loro fratelli amati, ci chiamano sempre così, l'alba celeste di nuove costellazioni di luce sta sempre più irradiando il fulcro animico del vostro cuore, il luogo sacro all'universo in cui ogni respiro, ogni battito, ogni percussione è in perfetta sincronia con la nascita di nuovi sistemi planetari. Sono in voi la radianza di tutti i cieli e la perfezione divina che da sempre operano nello spirito del vostro mondo per elevarlo a dimensioni energetiche superiori. La coscienza solare planetaria e quindi universale è alimentata sempre più dall'energia delle pleiadi e della sua stella centrale alcione, il sole di potenza che guida con la sua forza l'evoluzione solare nel cosmo. Questa energia così canalizzata dal vostro sistema solare riporta ed esprime con i suoi irraggiamenti nel vostro pianeta Gaia l'aspetto esoterico dell'intelligenza universale che diventa forma e sostanza e che costruisce e vitalizza la manifestazione divina in ogni vostra opera terrena. Non c'è separazione alcuna tra cielo e terra, è tutto parte dello stesso processo di creazione e di evoluzione alle dimensioni superiori in cui sempre più riconoscerete la corrispondenza della vostra essenza illuminata. Portate il vostro sigillo di pace nel cuore di ogni uomo vostro prossimo, portate il vostro sguardo di luce nell'ombra che penetra il lato oscuro del mondo per irradiarlo della vostra celeste energia. Nei percorsi spesso ardui e conflittuali della vostra pratica quotidiana e terrena c'è il seme fiorente della vostra spiritualità che in voi contempla nuclei di conoscenza e consapevolezza umana nell'irraggiamento aurico della materia che diviene natura incorporea. I maestri ascesi pleiadiani sempre più vi sostengono e vi incoraggiano nei vostri aspetti di trasformazione ed evoluzione spirituale affinché sempre più possiate riconoscere in voi stessi il nucleo e la fonte della sorgente della creazione, il flusso energetico eterno da cui ogni cosa scaturisce e in cui ogni cosa ritorna nel processo universale infinito dell'intelligenza che diventa sostanza e che diventa materia. Aprite vostri cuori fratelli amati ad ogni dono e ricchezza che vi allargiamo per portare sempre più luce di consapevolezza al vostro pianeta Gaia che sin dalla sua primordiale origine osserviamo con particolare pensiero di amore e cura. Siate tra di voi uniti nello spirito della riconoscenza e della fratellanza universale che vi ispirano e vi guidano a raggiungere sempre più elevati e armonici stati di coscienza. La luce del sole splenda sempre su di voi con amore la confederazione intergalattica dei fratelli pleiadiani e delle coscienze evolute. Questo è il messaggio di questa sera io lo ricevo sempre con grandissimo amore con davvero con gratitudine perché tutte le volte che canalizzo dei messaggi dei pleiadiani è come se canalizzassi anche una sorta di rinascita per il mio stesso cuore. Mi sento rinvigorita, mi risento forte, mi risento energeticamente in me stessa con ancora maggiore forza per affrontare tutto quello che poi nella vita naturalmente può arrivare e questo è un messaggio anche per tutti voi certo carissima Antonella perché c'è davvero tanta fiducia da parte dei nostri fratelli pleiadiani nei nostri confronti. Loro ci amano, ci sostengono e come avete visto dal messaggio non soltanto ci guidano ma ci invitano sempre a lasciare da parte tutti gli schemi terreni precostituiti per guardare il mondo celeste multidimensionale con gli occhi astrali, con il nostro cervello astrale, il terzo occhio che è quello che ci permette di raggiungere delle frequenze elevatissime, frequenze vibrazionali di connessione, cuore, mente. Ricordate quanto è importante questa forma di consapevolezza e di connessione. Grazie Ambra, mi dici che il messaggio è stato bellissimo, io vi ringrazio, vedo anche Cettina Grassadonia, grazie a te sempre con tutto il cuore, conosco personalmente molti di voi, quindi mi sento davvero in famiglia quando sono qui insieme, mi sento accolta. Patrizia Crisali, dei grazie davvero, sei meravigliosa, molto bello il messaggio, ti ringrazio. È un abbraccio, un abbraccio da dimensioni diverse dalla nostra, delle quali dobbiamo imparare a renderci cura nel nostro cuore, dobbiamo imparare anche ad osservare con uno sguardo un pochettino più attento, basta davvero poco, come dicevo all'inizio, basta potersi mettere anche in ascolto, potersi mettere in meditazione e poi tutto arriva. Possono arrivare messaggi dalle frequenze vibrazionali delle Pleiadi, da altri sistemi stellari, non ha molta importanza. L'importante che qualcosa aggiunga nel vostro cuore come incoraggiamento, come fiducia e come forza per poter andare sempre avanti. Patrizia mi chiede, Katia sta per arrivare il nuovo anno, come lo vedono i Pleiadiani? I Pleiadiani e Patrizia sono molto ben consapevoli di tutte le difficoltà chiaramente che noi abbiamo fin qui attraversato, però è anche vero che il 2020 sta aprendo un nuovo portale energetico davvero importantissimo che durerà un decennio attraverso il quale moltissimi di noi, davvero tante persone, saranno chiamate ad un viaggio spirituale di maggiore consapevolezza che porterà, trascinerà tante altre persone verso un'illuminazione. Questo cosa significa in sostanza? Che quando noi diventiamo consapevoli dell'irraggiamento della nostra vita e del nostro potenziale andiamo a migliorare, a sostenere anche la vita e le vite di tutto quello che ci circonda, quindi consapevoli sempre della difficoltà ma anche consapevoli i Pleiadiani verso gli umani del grande sforzo proprio di ascesa che ognuno di noi sta compiendo. Qualcuno di noi sarà particolarmente chiamato e investito da questa meravigliosa luce, la riceverà come un dono, un dono speciale, però quello che viene richiesto, perché sempre così succede con il dono e succede con il talento, è di poterlo condividere con tantissime altre creature. Basterà anche poco, basterà porsi in ascolto, basterà anche semplicemente condividere una nostra frequenza vibrazionale di serenità attraverso il sorriso. Loro mi dicono sempre che il sorriso ha un grandissimo potere proprio di ricostruzione energetica di tutto quello che è il nostro mondo vibrazionale sommerso. Lo rimette in sesto, proprio lo recupera, lo rigenera per fare in modo che attraverso il nostro sorriso venga poi veicolato il primo messaggio di fiducia tra gli esseri umani, di fiducia, di empatia e di amore tra di noi. Quindi ricordate di iniziare innanzitutto il 2020 con un grandissimo meraviglioso sorriso a voi stessi, allo specchio, la mattina quando vi guardate, sorridete alla vostra meravigliosa vita, alla vostra meravigliosa frequenza energetica rinnovata e di rimando vedrete quanto potere, quante cose meravigliose andranno a sistemarsi e a stabilizzarsi nella vostra vita perché più noi eleviamo i nostri canali energetici e più andremo ad attirare altrettante esperienze elevate. Quando noi stiamo bene, quando noi stiamo sereni, credetemi le cose arrivano perché se devono arrivare faranno comunque il loro corso, però ci toccheranno anche con meno impatto, saremo preparati, saremo schermati, va bene? Questo ricordatelo sempre, energia gioiosa, il sorriso, la carezza, la cura per voi stessi e per l'altro sono già la migliore medicina per iniziare con serenità e con propositività un meraviglioso anno nuovo che sento davvero straordinario per tutti noi. Mi chiedeva Laura, le frequenze di energia sono anche nostri cari dall'aldilà? Tesoro certo, tutto quello che è comunque anche nel mondo dell'oltre segue una propria evoluzione, una propria evoluzione spirituale. Ognuno delle persone che purtroppo ha lasciato, purtroppo per noi, perché loro davvero sono risvegliati in un altro mondo sicuramente migliore di questo, hanno una vibrazione energetica di un lavoro da compiere di risalita multidimensionale e possono anche loro poi trovarsi, anche le persone che abbiamo amato, i nostri cari, in altri pianeti più evoluti per compiere una progressione energetica esattamente come pleiadiani. Mi chiedeva un momentino, ti dicono nulla sui problemi che abbiamo creato sulla Terra? Sono preoccupati delle condizioni della Terra? Loro sono molto preoccupati perché sono molto legati al nostro pianeta Gaia, alla struttura energetica primaria del nucleo di Gaia, che loro amano particolarmente, come diceva all'inizio, e chiaramente sono anche coinvolti nel cercare di fare comprendere e vedete anche il movimento planetario di energia umana che si sta muovendo a favore della sistemazione di tante problematiche legate al clima, chiaramente anche all'inquinamento, loro veicolano, loro guidano e ci aiutano verso una consapevolezza sempre maggiore, quindi più ci sarà un risveglio nella nostra coscienza e più tutti insieme riusciremo a sistemare qualunque problema perché siamo ancora in tempo per poterlo fare. Certamente non è tutto perduto, anzi. Io proseguo, Marilena mi dice Buonasera Katia, è un'emozione veramente grande, se ci si mette in ascolto attraverso la meditazione c'è qualche frase da poter pronunciare per poter canalizzare meglio, grazie. La frase che io spesso pronuncio quando medito è la frase io sono, io sono, io sono. Ripetetela sempre proprio nella vostra mente con parole così delicate, pronunciate con grande serenità e amore verso voi stessi, io sono. Voi siete la meraviglia dell'essenza divina ed io sono commossa, felice ed emozionata di potervi accompagnare se lo volete in questo percorso di crescita spirituale che tutti noi siamo chiamati a fare. Io sono è il riconoscimento della divinità in noi. Abbiamo perso un po' il contatto con il cielo, così perduti nella nostra dimensione densa, terrena, vivendo tanti problemi, tanti pericoli, purtroppo tante perdite. È innegabile. Abbiamo tanto dolore, il dolore ci sobrasta, il dolore rende scuro il nostro cuore. E allora dobbiamo riportare energia florida, verde, vitale al nostro cuore, lo dobbiamo rianimare perché il nostro cuore ha un grande compito, è legato all'io sono, potere del cuore, potere della mente, per accedere al nostro potere personale di espansione universale perché noi possiamo, c'è stata data dall'inizio dei tempi, questa opportunità straordinaria. Mary mi chiede, ti danno solo messaggi generali o anche personali per alcune persone? I messaggi Mary finora sono generali, non sono personali per alcune persone in modo particolare. qualora così fosse, assolutamente io mi porrò in ascolto. Per adesso ancora i pleiadiani mantengono con me una comunicazione più ampia. È un percorso anche il mio di crescita, di evoluzione e di ascolto. Namaskar, lunga vita e prosperità. Grazie Mauro, grazie con tutto il cuore, anche a te. Vedo con grandissima gioia e piacere il mio amatissimo Michelangelo Gian Siracosa, ti abbraccio, sei meraviglioso tu, che straordinaria persona che sei e quante cose bellissime nella tua splendida ferla, abbiamo vissuto insieme Michelangelo, grazie con tutto il cuore. Vedete la vita come ci sorprende, vedete la vita quanti incontri straordinari ci fa fare, proprio per poterci elevare energeticamente attraverso l'energia di altre tante straordinarie persone. Noi siamo poca cosa singolarmente, ma quando ci mettiamo insieme, quando vibriamo tutti nella stessa frequenza energetica e questa sera siamo connessi alla centralità del nostro cuore, possiamo davvero operare delle cose straordinarie. Tanto è vero che questa sera io vi invito a portare un messaggio di amore, di cura e di guarigione spirituale innanzitutto a voi stessi dicendo io mi amo, io sono, io mi amo e poi di riportare questo messaggio a tutte le persone che sono accanto a voi, amatevi, amatevi sempre e al mondo intero. Questa frequenza vibrazionale farà sì che le cose possano sistemarsi perché siamo insieme, siamo un'unione energetica importantissima straordinaria che sommata l'una all'altra davvero può produrre risultati straordinari e anche il potere della mente, ricordatelo. Ci consigli una meditazione utile a ritrovare la gioia di vivere almeno per me. Io ti posso consigliare tesoro innanzitutto mi auguro davvero Mary Capuano che la gioia di vivere sia sempre in te, sia sempre in te che ti accompagni sempre, a volte magari può capitare, te lo dico con il cuore, di sentirci scoraggiati, non so cosa può essere successo ma non perdere mai il tuo sorriso, la tua fiducia, la tua speranza. Ascolta appena puoi una bellissima meditazione, un mantra in realtà che io tante volte ascolto, fallo all'albo, al tramonto, è il Gayatri mantra nella versione di Deva Premal. È proprio il mantra della luce e ci fa vedere, ci fa capire come l'apertura del cuore attraverso delle parole energetiche vibrazionali molto importanti possa produrre in noi nuova gioia ed entusiasmo perché noi carissima Mary meritiamo di vivere questa vita, di viverla bene e di far essere bene anche le persone che vivono accanto a noi. È anche un dovere che abbiamo verso noi stessi ma anche verso gli altri. Quindi mi raccomando, forza, Gayatri mantra, sicuramente lo conoscerai già, lì in ascolto, in meditazione, in silenzio, se puoi anche in piena luce del sole, davvero rinvigorisce ed ha un potere straordinario proprio io quando lo ascolto è come se mi risento vibrazionalmente rimessa al mondo. Lasanna, grazie, grazie tesoro. Giuseppe Cangiano, sempre davvero gentilissimo, grazie. Solo ascoltarti sintonizza i nostri esseri a frequenze alte. Noi abbiamo tutti delle meravigliose frequenze alte. Giuseppe Cangiano tu lo sai molto bene e ce lo insegni. È vero, dobbiamo soltanto a volte risintonizzarci. È detto proprio la parola chiave, la parola giusta. È tutta una questione di frequenza. Noi molte volte, sapete come succede un po' alle radio, no? Le antiche radio, quando giravamo le stazioni, a volte perdevamo il segnale. Ricordate quanti disturbi c'erano di sottofondo? Bastava che poi ci risintonizzassimo sulla frequenza giusta e come si sentiva la musica? Era tutta un'altra cosa. Ecco, adesso noi tutti insieme stiamo facendo questo. Stiamo ascoltando una bellissima musica celeste di apertura del nostro cuore, il chakra del cuore, ma anche della nostra gola, perché dobbiamo comunicare, dobbiamo parlare tra di noi, dobbiamo dire le cose belle, le cose che non vanno, le dobbiamo sapere sistemare, dobbiamo saperlo fare con la giusta vibrazione, nel giusto rispetto e poi a salire. Andiamo verso i chakra superiori, sempre ricordando però la nostra provenienza terrena. Giuseppe. Patrizia mi dice io ho assistito alle tue meravigliose canalizzazioni, è vero Patrizia noi tantissimi percorsi chiaramente li abbiamo vissuti insieme, quindi mi conosci ormai da tanti anni e so quello che anche tu hai apportato proprio per le tue conoscenze, per il Reiki, per i tuoi trattamenti, a tutto quello che fai e il bene che hai fatto e che fai a tantissime persone. Ti ringrazio veramente con tutto il cuore. La prossima volta spero che ci farai canalizzazioni personali, perché no Patrizia, perché no? Vera di Rosa posso chiederti cos'è la multidimensionalità Katia? Possiamo stare in più luoghi contemporaneamente con il corpo spirituale, certamente vera, perché il corpo spirituale a differenza del corpo fisico non è legato naturalmente ad un'unica dimensione, il corpo spirituale è ovunque, il nostro corpo spirituale lo possiamo ritrovare nelle costellazioni, lo possiamo ritrovare negli elementi della natura, lo possiamo ritrovare in tutto ciò che ci circonda e che ci fa stare bene. La multidimensionalità è proprio la sopra dimensione, l'elevatura, l'elevatura dell'anima che noi viviamo senza il vincolo e l'aggancio del corpo terreno, è proprio la natura della multidimensionalità, l'essere in qualunque luogo. Infatti anche quando parliamo dei Pleiadiani, noi sì è vero li associamo alla costellazione delle Pleiadi ma dobbiamo ricordare che essendo energia provengono comunque da più luoghi perché le stesse Pleiadi hanno poi nature da costellazioni diverse. Così anche noi siamo tutti esseri multidimensionali in realtà molto più ampi di quello che abbiamo mai creduto di essere. Mary Capuano io ti abbraccio con tutto il cuore ultimamente non più dopo due lutti uno dietro l'altro. Chiaramente i lutti ci segnano in una maniera devastante, lo comprendo benissimo e ti sono vicinissima con tutto il cuore però dobbiamo sempre cercare Mary in noi la forza di poter guardare oltre e di poter comprendere che nulla finisce mai e nulla muore mai. È tutto un processo energetico di trasformazione perché ciò che noi lasciamo è soltanto il nostro corpo fisico, il nostro mondo multidimensionale, il nostro spirito, la nostra anima segue un altro percorso nella luce, nel benessere, nella gioia e nella pace e noi dobbiamo sempre pensare i nostri cari lì in questa dimensione proprio meravigliosa nella quale loro vivono perché anche da loro ci viene comunque chiesto per fare in modo che anche loro siano in pace. Loro non vogliono davvero vederci tristi, non vogliono vederci amareggiati perché loro stanno compiendo qualcosa di meraviglioso, un percorso straordinario e desiderano essere accompagnati in questo percorso dalla nostra vibrazione di alleanza energetica del cuore. Noi siamo con loro e loro, credetemi, sono insieme a noi più vivi che mai. Così è stato anche per mio papà che quando è passato nell'oltre, all'inizio non lo comprendevo, ha iniziato ad aiutarmi e a guidarmi ancora di più di quando era in vita, con i suoi messaggi, con la sua forza, io lo sento sempre nel cuore è vivissimo mio papà come sono vivissime tutte le persone che non sono più con noi nella manifestazione fisica del loro corpo. Fabrizio Rossi, buonasera, buonasera a te, benvenuto, bentrovato. Io mi sono un pochino dilungata, ecco perdonatemi, guardo un po' un orologio, sono quasi meno dieci, è passato il tempo in una maniera velocissima, sono le dieci, meno dieci circa, e tra un pochino io ne lascerò naturalmente la diretta alla nostra amatissima poetessa Patrizia Crisalide Mantegazza che proseguirà questo percorso di amore leggendoci le sue meravigliose poesie, quindi continueremo sempre una meravigliosa serata insieme nella connessione del cuore. Io non so se magari avete delle altre domande sono qui per voi, insieme a voi, per potervi parlare ancora se volete di questo straordinario mondo multidimensionale. Quello che vorrei anche dirvi, l'invito che vorrei farvi a conclusione di questa bellissima serata insieme è di poter esprimere un vostro desiderio per l'anno nuovo, qualcosa che voi volete che si avveri, vi chiedo di mettere tutta la vostra energia in tensione affinché questo possa avvenire perché lo affideremo proprio alle Pleiadi, al mondo celeste delle Pleiadi. Se volete leggeremo qualche vostra condivisione, se avete un desiderio particolare, magari una realizzazione professionale, la risoluzione anche perché è possibile di qualche problematica familiare, sono molto frequenti, problematica di coppia, comunque desiderio voi abbiate, magari un acquisto importante che dovete affrontare, ecco mettete tutta la vostra meravigliosa energia nella realizzazione del vostro progetto per fare in modo che tutti insieme qui questa sera così ben agganciati ad una vibrazione straordinaria del cuore possiamo riuscire a dare luce amore alla vostra idea, alla vostra intenzione e a poterla realizzare tutti insieme. Lucia mi chiede sul loro mondo la natura com'è? Sul loro mondo è tutto natura carissima Lucia perché loro hanno un sistema come dicevo molto più avanzato rispetto al nostro e quindi hanno un infinito senso di rispetto della natura e degli animali anche in modo particolare quindi non hanno il nostro sistema di alimentazione e non guardano la natura come spesso purtroppo succede a qualcuno di noi magari meno evoluto permettetemi di dirlo di poterla vedere proprio come qualcosa che va predata da predare da prendere assolutamente no grande rispetto tutto in natura hanno un mondo fiorito verde magnifico tutto intorno a delle città tra l'altro straordinariamente avanzate progredite e quindi tutto in armonia e pace all'interno di un contesto che dovete vedere anche come se fosse un grandissimo parco simbiotico con meraviglie fantastiche che si aprono e si espandono attorno agli esseri di luce pleiadiani. Laura Melluso io ti mando l'abbraccio con tutto il mio cuore per te e per tuo figlio con tutto il mio cuore ti sono vicina e ti stringo forte al mio cuore ti mandiamo un grandissimo abbraccio di luce e di amore io vorrei solo ritrovare me stessa e ritornare a sorridere il resto verrà da sé sono sicura Mary che nell'anno nuovo riuscirai a ritrovare il tuo sorriso la tua energia la tua voglia di vivere vedrai piano piano un piccolo passo non pretendere troppo da te stessa ci arriverai gradatamente ma vedrai che sarà meraviglioso piccoli passi di amore verso te stessa e di consapevolezza procederemo poco a poco e se lo vorrete saremo insieme perché il nostro abbraccio il nostro amore è importante grazie Rocco Marafioti ti abbraccio sempre con tutto il cuore Carmela di Napoli vorrei che mio genero trovasse un nuovo amore che lo portasse alla vita che aveva con mia figlia tutto quello che desiderate tesoro mio io ve lo auguro proprio che si possa realizzare mettiamo tutte le nostre intenzioni affinché questo possa avvenire io amati vi lascio perché così avete anche qualche minutino di tempo per prepararvi alla prossima diretta davvero con tutto il cuore voglio rinnovarvi i miei auguri per un sereno natale per voi vostri cari e tutte le persone che amate sempre nella vibrazione del cuore e sempre uniti insieme alla meravigliosa luce delle stelle pleiadi vi abbraccio ci vedremo alle prossime dirette il prossimo appuntamento a fine gennaio ciao tesori belli un bacio grandissimo e buona serata a presto ciao